Buonasera a tutti, anche non sono andato prima, il mio nome mi chiamano tutti Filomeno, io sono presidente della squadra Ferrari Club d'Arcialesio che è a nord dei Varese, sono qui con un gruppo d'amici e ci siamo accomunati con il Ferrari Club di Saronno che poi passano la parola al presidente, ma sono qui con un gruppo d'amici che io ringrazio veramente di cuore perché sempre quando li chiamiamo per fare queste cose, per portare sì la Ferrari in queste situazioni ma anche per portare la Ferrari in giro per mezzo mondo, facciamo parecchie di ogni all'anno, alcuni di beneficenza ma alcuni anche di aiuto ai ragazzi diversamente abili e li devo ringraziare di cuore perché quando li chiamiamo ci sono sempre, sì per la passione ma sì anche per queste cose, grazie. Un applauso. Tutto quello che c'era da dire l'ha detto l'amico Filomeno Pocolo, io sono Pier Antonio Giussani, presidente di scuderia Ferrari Club Saronno e ringrazio anche io gli amici che sono intervenuti nonostante i monti e nonostante i bandi in testa che ci sono a questa manifestazione e spero che si concluda bene come cominciato, grazie. Benissimo, grazie. Ecco io volevo presentarlo con molto più onore però fallo tu dai, abbiamo perché no la Ferrari devi chiamare anche un grande nome, un grande della Ferrari, lui è stato veramente presenta, ti prego fallo tu. Grande per la statura. Fuori misura per essere un pilota, sono Lorenzo Casè e sono pilota per l'Ani, grazie. Per la ricerca di Gran Turismo partecipo a questo evento, mi hanno messo tra i giornali ma non sono un esperto di queste manifestazioni, forse più di manifestazioni motoristiche ma perché è amico di Giuseppe e di altri organizzatori e siccome sono conterraneo di molte di queste persone, abito qui vicino a Confianza in provincia di Pavia, abitavo, adesso da un po' di anni abito a Roma, comunque vengo da queste zone e siccome si parla di tradizioni delle nostre zone di ragazze, di bellezza, di cibo, di vino e di Ferrari, fortunatamente ero libero da impegni agonistici questo weekend e con molta guai e con molto desiderio partecipo a questa serata con voi, grazie a tutti. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.